Musica Sanità dall'asile di Salerno avviso per 35 dirigenti medici, 4 destinati all'ospedale di Polla, 3 a quello di Sapri. Rifinanziamento degli incentivi per la piccola imprenditorialità, la soddisfazione dell'onorevole Iannuzzi. Gite sicure, controlli della polizia stradale, bus non idoneo, divieto di partenza. Montepruno Giovani, il 27 maggio si presenta alla città di Potenza. Calcio, eccellenza, il Valdiano resta a Teggiano anche il prossimo anno. Buonasera e bentrovate al telegiornale di Uno TV. Buone notizie sul fronte della sanità a sud di Salerno e per l'ospedale di Polla, che presto vedrà arrivare 4 dirigenti medici in unità operative che al momento registrano carenza di personale. L'ospedale Luigi Curto è tra i presidi ospedalieri a cui saranno assegnati più medici dopo Vallo della Lucania e Nocera. Sul sito dell'Asra di Salerno è stata pubblicata la delibera del commissario di avviso pubblico per la formulazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione di personale medico dirigenziale. La graduatoria porterà l'assunzione di 35 dirigenti medici da impiegare nei diversi presidi ospedalieri. Nell'avviso si legge come l'assunzione, che sarà a tempo determinato per la durata di 8 mesi prorogabili, è resa necessaria dal sussistere di una grave carenza di personale sanitario e amministrativo provocato dal blocco del turnover di cui è stata interessata la sanità della regione Campania. Per tale ragione è stata quindi autorizzata l'Asra di Salerno dal commissario ad acta al reclutamento di 35 unità di personale dirigente al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nei presidi ospedalieri maggiormente sofferenti. Ad essere interessati dall'assegnazione di personale medico anche l'ospedale Luigi Curto di Polla, a cui sono stati assegnati 4 dirigenti medici, e l'ospedale dell'Immacolata di Sapri, con 3 unità mediche. In generale i 35 dirigenti medici saranno così distribuiti con l'ospedale di Vallo della Lucania che otterrà il maggior numero di medici con 12 unità, di cui 4 per medicina, chirurgia e accettazione d'urgenza, 2 per radiologia, 2 per pediatria, 1 ortopedia, 1 ostetricia e ginecologia e 1 per neurochirurgia. Per l'ospedale di Nocera Pagani in arrivo 9 medici, di cui 6 per l'unità operativa di medicina e chirurgia, 2 per radiologia e 1 per patologia clinica. 4 i dirigenti medici in arrivo all'ospedale Luigi Curto di Polla, con 2 destinati all'unità operativa di ortopedia e traumatologia, uno per pediatria e uno per anestesia e rianimazione. Anche Sapri avrà i suoi 3 nuovi medici che saranno destinate all'unità operativa di radiologia, anestesia e rianimazione e cardiologia. A Battipaglia due dirigenti medici in arrivo destinati all'unità operativa di radiologia, mentre a Eboli le due unità in arrivo saranno destinate all'unità operativa di cardiologia. Anche a Sarno arriveranno due medici per patologia clinica e pediatria. Un solo dirigente medico invece per Rocca d'Aspire, destinato all'unità operativa di anestesia e rianimazione. Sul nuovo avviso pubblicato dall'ASL di Salerno per il reclutamento di 35 medici, di cui 4 andranno all'ospedale di Polla, ne abbiamo parlato con il direttore sanitario, dottor Luigi Mandia. Si respira un'area che è un'area nuova, si respira un'area di programmazione. Nel senso che già ieri pomeriggio ho avuto occasione di dire a Sala Consilina che era in essere da parte del commissario un serio momento di rilancio di questo tipo di attività mediante l'attribuzione di nuove unità a questo ospedale. Questo ospedale ne ha bisogno. Arrivano 4 medici, non saranno solo questi 4 perché al bando che è stato preparato ieri dall'amministrazione dell'ASL a Salerno, a breve ritengo di poter dire che ne seguirà un altro che garantirà altre unità a questo ospedale per riempire le carenze in organico. Polla è un ospedale importantissimo perché serve un bacino d'utenza, ma è brutto dire un bacino d'utenza, serve un numero di pazienti enorme che è quello del Vallo di Diano, però è dislocato lontano dai grandi centri, quindi molte persone, molti medici che erano di Napoli, di Salerno nel tempo hanno preferito andarsene ovviamente più vicino alle loro case. È vero pure che ci sono molti colleghi che sono di queste zone che hanno preferito rimanere qua, ma nel tempo con i pensionamenti perché basti pensare che in Campania non si assume credo da più di 15 anni, anzi sicuramente più di 15 anni lo sono, visto che a Polla l'ultimo concorso è stato quello del 2000. Ragion per cui la necessità c'è, è grossa e comunque saranno questi primi arrivi di dirigenti medici a permetterci anche di aprire una fase nuova che è quella della programmazione sanitaria di cui abbiamo tanto bisogno. Un'ultima domanda dottore, quali possono essere gli altri reparti che in questo momento hanno maggiormente bisogno di medici? Abbiamo bisogno di medici in cardiologia, in pronto soccorso, in neurologia, abbiamo bisogno di medici in pediatria, abbiamo bisogno di medici che ci consentano però anche di rispettare quando verrà fuori nell'ambito del piano ospedaliero che la Regione sta preparando, giusto appunto non solo per programmare così come la Regione ci richiede, ma abbiamo bisogno di nuovi medici anche per avere energie nuove, fresche, nuove acquisizioni culturali perché secondo me è giusto rimarcare che un medico giovane che comunque porta con sé la sua voglia di fare porta molto spesso anche un bagaglio culturale rinnovato, moderno, adeso alle necessità della gente e quindi comunque con una condizione come dire di freschezza che può fare solo del bene ai nostri ammalati. Le organizzazioni sindacali dell'ospedale Luigi Curto di Polla, la Will, FPL, CGL e la FIELF hanno annunciato lo stato di agitazione di tutto il personale con organizzazione nei prossimi giorni di presidi e assemblee. La decisione è stata assunta nei giorni scorsi quando il responsabile dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia, dottor Caronna, ha annunciato la sospensione delle attività sia chirurgiche che ambulatoriali dal 1 giugno a causa della grave carenza di personale. È inaccettabile e irresponsabile, scrivono le organizzazioni sindacali, che l'attuale dirigenza dell'ASL Salerno continui a umiliare e offendere i cittadini e gli operatori sanitari di questo territorio. Non vogliamo tavoli tecnici, incontri o altre promesse in quanto stufi di essere presi in giro, ma vogliamo risposte concrete e veloci che abbiano l'obiettivo di rilanciare e qualificare le prestazioni e servizi sanitari del presidio ospedaliero di Polla. Così si conclude la nota. Si ricorda che due dei quattro dirigenti medici in assegnazione per l'ospedale di Polla saranno assegnati proprio al reparto di ortopedia e traumatologia. Cambiamo argomento. Grande soddisfazione è stata espressa dall'onorevole Tino Iannuzzi per il rifinanziamento degli incentivi per la piccola imprenditorialità giovanile e l'autoimpiego del mezzogiorno. È una decisione importante e significativa per l'intera campagna. Ora, dichiara Iannuzzi, occorre dare certezza temporale e rendere permanente e stabile il finanziamento anno per anno delle agevolazioni, che daranno sicuramente una spinta rilevante alla crescita delle attività economiche e produttive. È una decisione importante e significativa per l'intera campagna e la provincia di Salerno. Così commenta il rifinanziamento da parte delle Cipe per 40 milioni di euro degli incentivi per la piccola imprenditorialità giovanile e l'autoimpiego del mezzogiorno, l'onorevole Tino Iannuzzi. Queste agevolazioni, come rileva in una nota stampa, dal 1996 al 30 aprile 2016 hanno generato nelle otto regioni del meridione oltre 310 mila richieste, di cui 103 mila ammesse a finanziamento con un investimento complessivo da oltre 4 miliardi e 700 milioni di euro e finanziamenti erogati superiori ai 3 miliardi e 700 milioni di euro. Ne sono derivate nuove occupazioni per ben 175 mila unità circa, la nascita di tantissime piccole, solide e deficienti imprese che nei fatti hanno superato la difficile sfida del mercato e della competizione. La nuova occupazione ha riguardato in prevalenza giovani e donne disoccupate, ovvero la ricerca della prima occupazione. Il fatturato medio per ogni progetto ammesso è per le ditte individuali di circa 33 mila euro, per le società di 127 mila euro. La campagna con circa 100 mila domande presentate e 33 mila progetti finanziati è la regione che ha ricevuto maggiori benefici da questi incentivi con un impegno di spesa superiore al miliardo e 600 milioni di euro e finanziamenti erogati per circa 1 miliardo e 250 milioni di euro, con una nuova occupazione di circa 60 mila unità. In provincia di Salerno le domande presentate sono oltre 25 mila, superiore rispetto alle altre province della Campania, seconda solo a Napoli, su un totale di 99 mila 79 domande, con circa 9 mila 131 richieste ammesse a finanziamento, su un totale di 32 mila 887 approvate nella nostra regione. E di tutta evidenza quindi, riporta la nota dell'On. On. Iannuzzi che la provincia di Salerno è una delle province italiane con la massima e più proficua utilizzazione di questo prezioso strumento agevolativo per lo sviluppo dell'attività di impresa. Mi sono attivato da diversi mesi, con iniziative specifiche nelle sedi parlamentari e con le citazioni dirette a diversi rappresentanti del governo, ai fini del rifinanziamento degli incentivi. Ora, dichiara Iannuzzi, occorre dare certezza temporale e rendere permanente e stabile il finanziamento anno per anno delle agevolazioni, che daranno sicuramente una spinta rilevante alla crescita delle attività economiche e produttive nel sud. Dalla Polizia Stradale di Salerno è partita l'operazione Gite Sicure, controlli sui bus prima della partenza per le gite scolastiche. Questa mattina gli agenti della Polstrada di Sala Consilina hanno vietato la partenza di un bus diretto nel Beneventano, perché non idoneo. Dalla Polizia Stradale di Salerno e dal primo dirigente, grazie a Papa, è partita l'operazione Gite Sicure, un programma di controlli che è stato messo a punto su tutto il territorio provinciale, finalizzato al controllo di autobus che sono stati individuati per il trasporto di studenti e non in viaggi culturali. Anche la sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina, al comando dell'ispettore capo Rufino Tortora, in questi giorni sta effettuando una serie di controlli attenti e minuziosi sui bus in partenza per gite, in particolare se si tratta di gite scolastiche, al fine di garantire l'incolumità degli studenti e la buona riuscita delle gite culturali organizzate dagli istituti scolastici. Questa mattina gli agenti dell'ispettore Tortora, nell'ambito dei previsti controlli prima della partenza dei bus destinati al trasporto di studenti di un istituto scolastico del Vallo di Diano, diretta ad una gita nel Beneventano, hanno imposto il divieto di partenza, bloccando quindi l'utilizzo di un bus di una ditta del territorio, ritenuto non idoneo per il viaggio, quindi privo dei necessari requisiti di sicurezza richiesti a tutela proprio dell'incolumità dei passeggeri, oltre che dell'autista stesso. Tutelare gli studenti che partono per viaggi destinati ai fini culturali, come possono esserlo le gite scolastiche che vengono organizzate ogni anno dalle diverse scuole del territorio, è diventato uno dei principali doveri delle istituzioni. Dopo la decisione del MIUR di responsabilizzare in tal senso anche i docenti e gli organizzatori delle gite, la Polizia Stradale di Salerno ha deciso di intensificare i controlli, in modo da venire incontro alle richieste dei dirigenti scolastici, dei docenti e dalle famiglie dei ragazzi. A tutela proprio della sicurezza di quanti partecipano alle gite, ma anche per garantire una maggiore tranquillità, l'ispettore capo Rufino Tortora ha da tempo avviato controlli su tutti i bus in partenza da diversi istituti del Vallo di Diano, un'operazione che consente di realizzare viaggi e trasferte culturali in totale serenità. L'operazione di questa mattina, che ha portato al blocco di un bus per il viaggio, è stata finalizzata in primis proprio a garantire l'incolumità di quanti avrebbero viaggiato a bordo dello stesso bus, risultato poi non idoneo ad affrontare lo stesso viaggio. Brutto incidente ieri pomeriggio in via nazionale a Padula. Due auto, una Smart e una Volkswagen Golf si sono scontrate. Secondo una prima sommaria di costruzione, sembra che la Smart con a bordo due persone stava per immettersi sulla strada, quando all'improvviso è giunta l'altra auto, su cui viaggiava solo il conducente. Sull'esatta dinamica dell'accaduto, indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sala Consilina, giunti sul posto insieme ai militari della locale stazione, per i rilevi del caso. Non è da escludere che possano aver giocato un ruolo importante nell'incidente anche le pessime condizioni del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, caduta nel primo pomeriggio. Sul posto l'immediato intervento anche del personale sanitario del 118, che ha provveduto al primo soccorso e al trasporto dei feriti presso l'ospedale Luigi Curto di Polla. Il loro stato di salute non destra particolare preoccupazione. Cambiamo argomento. Domani pomeriggio, alle ore 15, presso la sede del Parco Nazionale del Cilento Valoridiano e degli Alburni, il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti sarà ospite del Presidente del Parco Tommaso Pellegrino, per parlare del sud, delle risorse anche ambientali, da cui partire per uno sviluppo futuro. E intanto a Monte San Giacomo venerdì si terrà un importante incontro sul futuro del lavoro a 46 anni dallo Statuto dei Lavoratori. L'evento si terrà a Palazzo Marone. Nuovo importante appuntamento si terrà venerdì prossimo 20 maggio presso Palazzo Marone a Monte San Giacomo, all'incontro organizzato da lui il TEC, il futuro del lavoro a 46 anni dello Statuto dei Lavoratori. All'incontro che si aprirà dalle 10, come i saluti iniziali del sindaco di Monte San Giacomo, Raffaele Accetta, e dell'assessore alla cultura Angela D'Alto, ci sarà l'introduzione di Alessandro Antoniello, segretario territoriale dell'UILTEC Salerno, e gli interventi di Mimmo Carrieri, ordinario di Sociologia dell'Economia del Lavoro presso l'Università La Sapienza di Roma, Giuseppe Garesio, amministratore delegato della Sinergia Italia, Agenzia per il Lavoro SPA, Sonia Palmieri, assessore alle risorse umane, al lavoro, al demanio e al patrimonio della regione Campania, Carmelo Barbagallo, segretario generale dell'UILTEC. Lo Statuto dei Lavoratori, entrato in vigore con la legge numero 300 del 20 maggio del 1970, ha introdotto importanti e notevoli modifiche sia sul piano delle condizioni di lavoro che su quello dei rapporti fra i datori di lavoro e costituisce, a seguito di minori integrazioni e modifiche, l'ossatura è la base di molte proibitioni ordinamentali in materia di diritto del lavoro in Italia. Il terzo dello Statuto si divide in un titolo dedicato al rispetto della dignità del lavoratore, in due titoli dedicati alla libertà e alle attività sidacali e in un titolo sul collocamento e in uno sulle disposizioni transitorie. A concludere dei lavori dell'incontro in programma venerdì a Palazzo Marone sarà il segretario generale dell'UILTEC Paolo Pirani. Diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio. La Montepruno Giovani arriva a Potenza. Il prossimo 27 maggio è previsto l'evento di presentazione a partire dalle ore 19 presso il grande albergo. L'obiettivo è quello di coinvolgere le giovani generazioni anche della città di Potenza. Continua il percorso di crescita dell'associazione Montepruno Giovani che nell'ambito della sua attività volta ad avvicinarsi alle giovani generazioni del territorio di riferimento dell'Istituto di Credito ha programmato per venerdì 27 maggio alle 19 la presentazione alla città di Potenza con la specifica volontà di avvicinare il maggior numero di giovani all'interno dell'universo della banca Montepruno. Potenza we are coming, Potenza stiamo arrivando è lo slogan lanciato per questa nuova sfida, una iniziativa che fa seguito alla positiva tappa di presentazione che si è svolta lo scorso mese di appunno a valo della Lucania. L'appuntamento è a partire dalle 19 presso il grande albergo in corso 18 agosto 1860 nel centro di Potenza. L'evento appunto a far conoscere anche i giovani lucani una realtà che ormai raccoglie circa 600 ragazzi dai 18 ai 35 anni. L'obiettivo dell'associazione della Montepruno Giovani è quello di coinvolgere le giovani generazioni anche dalle città di Potenza operando con chi vive in quel contesto attraverso la promozione dei valori che hanno caratterizzato da sempre l'azione dell'associazione stessa e della banca Montepruno. Sarà un'occasione per poter condividere le strategie dell'associazione aprendo un nuovo filone di attività nel territorio lucano. Il programma dell'evento prevede i saluti iniziali da parte degli esponenti della banca Montepruno al quale seguirà la presentazione dell'associazione Montepruno Giovane nonché quella dei progetti che caratterizzeranno il prossimo futuro. Ci sarà dunque la serata, anche la possibilità di potersi iscrivere all'associazione. Terminati i lavori, si proseguirà sulla terrazza del grande albergo per un momento conviviale tra tutti i presenti. Si terrà sabato pomeriggio alle ore 18 presso Palazzo Gerbasi a Montesano sulla Marcellana la presentazione del catalogo del Museo Civico Etnoantropologico per Angusta ad Augusta di Giuseppe Aromando. All'evento parteciperanno il primo cittadino Donato Fiore Volentini, Francesco Vannata responsabile dell'area economico-finanziaria settore archivio biblioteche e musei, Angelo Sica presidente del centro studi radici di Montesano sulla Marcellana e Giovanni Novellino studioso ed esperto di tradizioni popolari e folcloristiche. Cambiamo argomento, domenica scorsa il raduno di auto d'epoca a Teggiano organizzato dal gruppo di appassionati storiche e ruggenti. A partecipare al raduno a Teggiano anche il club Araba Phoenix con il presidente Walter Marano che ai nostri microfoni, oltre a parlare della collaborazione con il gruppo di Teggiano, annuncia anche il prossimo tour nella splendida location di Velia e dei suoi scavi antichi. La prossima settimana ci sposteremo nel Cilento e faremo la sesta edizione di Cilento e dintorni. In questo caso andremo a visitare i famosi scavi di Velia, Elea, una città greca famosa per i suoi scavi. Nell'occasione saremo al caseificio La Contadina dove degusteremo prodotti tipici della zoo, mozzarelle, ricottine di bufala, insomma tutti prodotti del territorio. Da lì faremo un giro per alcuni comuni del Cilento come Ascea Marina e Casalvelino Marina. Faremo tre comuni del Cilento. Basta presentarsi la mattina del 22 presso il caseificio La Contadina in Altavilla Silentina. Lì verranno iscritti gli equipaggi, verrà dato il numero di gara e i biglietti per gli scavi e per la manifestazione in generale. Da lì si partirà e si farà il giro del Cilento. Può contattare il sottoscritto o vedere il sito del club che è www.clubarabafenix.gimdo.com oppure contattare il presidente o i consiglieri del club. E passiamo allo sport. Nessuna vendita del titolo sportivo. Il Valdiano resta a Teggiano e rappresenterà il Vallo di Viano anche nella prossima stagione nel massimo campionato di calcio regionale. Una lunga e travagliata stagione, quella del Valdiano, iniziata nel peggiore e conclusa sì con un colpo di coda. La compagine cara al patrone Carmine Cardinale per fare un paragone ciclistico è stata a lungo tempo come quello scalatore che in salita non riusciva a trovare il suo ritmo ma l'ultimo chilometro con uno scatto di orgoglio ha reagito e raggiunto il traguardo facendosi beffa degli avversari. Una stagione che ha annoverato tre campi di guida tecnica, una cosa mai rivoluzionata rispetto alle passate stagioni in cui è pesata l'assenza di un attaccante di peso e il solo Costanzo trasformato da una gestione Morea-Sarli in finalizzatore ha saputo dare quello contributo utile diventato fondamentale al comunale di Scafati quando con il suo sinistro ad incrociare ha regalato il gol salvezza ai suoi ricordi indelebili di una stagione che ha insegnato molto alla direggenza blaugrana che è conscia che certi errori non si possono commettere più. Ecco dunque che a due settimane dalla salvezza che sono state già messe alle basi per il prossimo campionato di eccellenza. Tutte le possibili voci di vendita del titolo sportivo sono state dissipate nello scorso fine settimana quando la dirigenza tutta si è seduta intorno al tavolo e ha deciso di continuare anche il prossimo anno. Si va verso il tentativo di un allargamento della base societaria con l'ingresso di nuovi soci e di conseguenza nuovi capitali per formare una squadra che possa quantomeno portare a sognare i suoi rifosi ed evitare le pene subite in questa stagione. Si riparte dal padrone Carbine Cardinale che è disposto ad investire nuovamente nella squadra insieme ad altri imprenditori e garantire un budget tale da ambire a qualcosa di più. È difficile perché le concorrenti saranno agguerrite come sempre ma in questo momento la notizia è che il Valdiano ci sarà, rappresenterà Teggiano e tutto il territorio nel massimo campionato regionale di calcio a 11. Nelle prossime settimane si avranno anche notizie per la guida tecnica, il primo nome resta quello di Manfredini che sarebbe così confermato dopo aver raggiunto la salvezza e per il gruppo che vestirà la maglia baurana nella prossima stagione. Con questo servizio si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro buona serata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS